Ciao Fefe, mi sono chiesta mille volte cos'è l'amore, ho sempre pensato che l'amore più vero e puro fosse quello di mamma e papà che ti dovrebbero amare incondizionatamente. Ho appurato che l'amore è anche quell'affetto immenso che provo per le mie amiche. Però penso anche che l'amore sia quando una persona ti fa andare fuori di testa e ti rendi razionale, ti fa tremare le gambe e le mani, ti fa battere forte il cuore, ti rende totalmente vulnerabile da non riuscire a fare altro che non parlare. L'amore è quando sudi o ti agiti senza motivo, l'amore è quell'esatto momento in cui guardi una persona e non vedi nient'altro, l'amore è quando intrecci le mani con qualcuno e non ti senti più solo, l'amore è quando ti senti mancare la terra sotto i piedi, l'amore è quel piccolo secondo in cui ti vengono gli occhi lucidi, l'amore è quando sorridi prima di un bacio, l'amore soprattutto è quando vengo a dirti che non ti voglio ma in realtà ti voglio tantissimo, ma non so bene che fare, allora faccio C, ti dice con E, che quelle mi vengono bene, per questo ti amo, PSFF, perché in realtà a casa ti abbiamo sempre chiamato così.